Ciao amici di Tivoli, sono Antonio dagli Stati Uniti. Siamo qua in Villa d'Este e questo Giordena è fantastico, è proprio numero uno in tutto il mondo. Ciao! Salve! Salve! love here has a lot of history della storia della storia di Tivoli e della storia di Tivoli e della storia di Tivoli. Grazie per la visione!